Il meteo di martedì 13 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso con maggiori addensamenti nelle zone interne, locali rovesci o temporali nelle zone interne nel pomeriggio, temperature senza variazioni di rilievo, venti di brezza tesa dai quadranti occidentali al mattino e da quelli settentrionali al pomeriggio, mare poco mosso. Grazie a tutti.